Ogni tanto, tra le altre cose, basta fare un giro un po' più lungo e alle stesse conclusioni poi si arriva. Perché ieri non ho parlato del discorso legato ai giocatori che non erano proprio convinti di questo ritiro per quanto riguarda la sfida al Torino, quindi Torino-Juventus. Però con Mastrangelo e Sicolf avevamo attraversato l'argomento in maniera trasversale e forse a quella conclusione ci eravamo arrivati comunque. Quindi in questo momento diciamo che tutte le strade poi vanno a intersicarsi in un'unica convinzione, in un'unica verità, che racchiude tante altre verità. E proprio di questo vorrei parlare un po' all'interno di questo video, per ricordarvi che poi questa sera, anzi, nel tardo pomeriggio, torno alle... neanche tardo in realtà, dopo pranzo, intorno alle tre, diciamo così, uscirà anche il mio commento alla conferenza stampa di Massimiliano Allegri proprio per cercare di capire un po' di più di quello che sarà la conferenza pre-Toro, pre-derby, un derby scoppiettante, un derby importante e quindi ci diamo appuntamento anche in seconda battuta all'interno di questa giornata e chissà, magari anche in terza, a seconda di quelle che saranno le informazioni a nostra disposizione. C'è il numero 10 da scaricare qui sotto, proprio sul numero 10 magari avrete letto le informazioni relative ai giocatori che non erano proprio nell'idea di andare in ritiro, anzi, proprio una sorta di, se vogliamo, anche, tra virgolette, ammuttinamento da parte dei calciatori, cercheremo di sviscerare anche questo argomento all'interno di questo video e cercheremo anche di leggere sul numero 10 magari le parole della conferenza stampa di Massimiliano Allegri insieme a tutti i miei contenuti, articoli e video che troverete gratuitamente sull'applicazione in maniera esclusiva anche, quindi scaricatelo gratuitamente, link in descrizione, iOS e Android. E allora niente, cerchiamo di andare un po' più dentro al dettaglio della notizia che in questo momento è abbastanza già datata, però avevo la volontà di dare anche la mia opinione su questa cosa, ma in teoria chi segue abbastanza la corrente di pensiero, la mia corrente di pensiero, sa benissimo che io avrei esonerato Massimiliano Allegri al termine della partita contro il Monza per un discorso temporale, perché c'erano due settimane comunque di pausa nazionale e quindi si poteva cercare di dare già una prima impronta parziale, perlomeno, per quanto riguarda il lavoro dell'allenatore successivo, sono ancora di quest'idea, non mi sono mai allontanato, perché io credo che nel momento in cui fai una sorta di coming out, passatemi il termine tra molte virgolette, relativo a voler allontanare un allenatore dalla panchina, poi difficilmente si torna indietro. Per tornare indietro rispetto al cambiare allenatore significa che deve davvero dimostrarmi che mi sono sbagliato, perché è quasi un passo irreversibile, dico quasi perché poi la possibilità finché Allegri sulla panchina della Juventus di potermi rimangiare quelle parole, beh quella rimane, me la deve dare Allegri però quella possibilità, e oggi non vedo presupposti per questa cosa qui, anzi io già nelle parole di Agnelli vedo una mezza verità e non una totale, secondo me non si arriverà alla fine della stagione con Massimiliano Allegri, secondo me un esonero ci sarà, che poi possa essere post derby col Toro, che possa essere dopo la pausa nazionale, nella pausa nazionale premondiale, io questa roba non la so, però non credo che Allegri finirà la stagione, ne dubito, ne dubito fortemente, però questa è una mia sensazione, io ero convinto anche potesse essere generato dopo Monza, quindi capite bene che la mia opinione vale come il 2 di denaro quando la briscola è a bastoni, quindi non conta niente, e quindi rimango lì in quell'idea che l'allenatore in questo momento andrebbe cambiato, ma sono anche dell'idea che tutte le colpe non siano sue, e anzi io mai, mai come in questi giorni, sono dell'idea che le colpe più grandi in questo momento possano essere della dirigenza, in realtà questa era una veduta anche che avevo l'anno scorso, ricorderete, prima del calcio mercato invernale, perché il ragionamento era semplice, esone di Pirlo, prendi Massimiliano Allegri, e ad Allegri dà la stessa squadra che aveva Pirlo, con Locatelli e Cani in più, e senza Cristiano Ronaldo. E allora ti chiedi, a che gioco stai giocando, tra virgolette, cioè quale linea stiamo seguendo, non capivo, e quindi lì vedevo delle colpe nella dirigenza. Si è rifatta a gennaio col mercato, e quindi dopo ho detto, beh adesso la palla passa da Allegri alla squadra, perché la dirigenza poi il tasselino l'ha messo, e Allegri alla squadra nella seconda parte di stagione, l'anno scorso non mi hanno dimostrato di essere stati in grado di colmare, quella lacuna che poi la società si era impegnata a riempire, quello spazio al suono di milioni di euro per l'acquisto di Dujan Vlaovic, e Denis Zaccaria, che forse tra l'altro ritornerà indietro a Juve, quindi veramente un discorso di programmazione, poi lì vabbè, dopo affronteremo il discorso Zaccaria, Rabiot, che sono state altre cose che mi fanno dire, boh, in che senso, cosa stiamo facendo, però sono discorsi a parte. Però quando parliamo di dirigenza bisogna sempre capire di cosa stiamo parlando, perché sotto il punto di vista delle operazioni, come vi dicevo, Zaccaria, Rabiot, queste robe qui, ogni tanto mi chiedo ma dove stiamo andando, ma nel complesso faccio un po' fatica a puntare il dito oggi su che Rubini arriva bene, però sono in Dragnelli e non posso non farlo, perché anche se è una situazione del genere drastica, terrificante, in cui ci sono letteralmente delle divisioni all'interno della dirigenza sull'operato, sul lavoro di Massimiliano Allegri e soprattutto nel momento in cui vengano presi due pesi, due misure o anche due modi diversi di analizzare le situazioni in riferimento ad allenatori differenti, allora poi certo la colpa è di Allegri perché sta continuando a sbagliare determinate cose, tante cose, non sta continuando a migliorare la squadra, sta continuando a fare gli stessi errori nell'arco di 15 mesi, però forse la colpa più grande allora è di chi lo tiene lì e di chi anche di fronte all'evidenza fa passare il messaggio che si arriverà a fine stagione, perché la storia dell'Avventus dice questo, ma in una situazione del genere non ha minimamente senso aggrapparsi alla storia, in una situazione del genere ha senso aggrapparsi alla logica, aggrapparsi all'evidenza, aggrapparsi al campo, aggrapparsi alla soluzione, nel cercare di trovare una soluzione. Questo andare avanti con Allegri invece sembra quasi un respiro disperato di un uomo che ha probabilmente, ma lo dico dal giorno zero del ritorno di Allegri, un filo rossa che unisce il suo destino a quello di Massimiliano Allegri, la sua ultima grande scommessa, e quindi io la vedo un po' così. Quindi se oggi devo andare a dare delle colpe, probabilmente il presidente lo metto in cima a tutto, anche perché essere presidente poi non significa che tu debba scegliere ogni dinamica all'interno della programmazione sportiva della Juventus, quindi acquisti, cessioni o comunque panchine, ti circondi di persone competenti, lo stesso Agnelli diceva io delego, negli ultimi anni invece vedo sempre più una Juventus Agnelli centrica per quanto riguarda le decisioni importanti, e intorno personaggi che fanno cose quando Agnelli decide di non intromettersi, che sono due cose diverse, sono due cose completamente diverse. Quindi oggi il grande colpevole secondo me della situazione è il presidente che è stata anche una delle figure, secondo me è anche la figura che ha contribuito in maniera maggiore nel creare quel ciclo incredibile. Lo ricorderete? Io ho sempre speso parole al miele per Andrea Agnelli, ma quando le cose vanno bene, io dico semplicemente bravi, quando le cose vanno male e secondo me ci sono degli errori, io non posso seguire la stessa linea che seguivo nel momento in cui pensavo effettivamente che stesse facendo bene. Io oggi vedo tanti errori di Andrea Agnelli, nella gestione della Juventus di Andrea Agnelli, nelle tempistiche anche della comunicazione di Andrea Agnelli, che ritengo una persona super intelligente, ma forse in questo momento un po' troppo permalosa. Passatemi il termine, c'è un uomo che sta cercando di difendere più una sua idea piuttosto che il bene della Juventus, e a volte forse è necessario anche fare quel passettino indietro rispetto alle proprie convinzioni per una salvaguardia più grande che appunto il bene della Juve. Io lo vedo così, in questo momento vedo un presidente che fa un po' fatica invece ad accettare la realtà, o comunque quella che in questo momento pare essere la realtà a tanti degli addetti ai lavori, anche interi della Juve, agli addetti ai lavori per quanto riguarda i giornalisti, gli opinionisti, ma i tifosi stessi che poi sono l'output, quello che ti riempie lo stadio, che ti compra le magliette, che ti prende il biglietto, che ti compra il merchandising, è quello l'output alla fine. Però io non posso assolutamente pretendere, nella suddivisione delle colpe, quindi presidente con tante colpe, allenatore con tante colpe, che venga tolto dell'equazione, la responsabilità è la colpa dei calciatori, perché se in un momento del genere, in cui perdi col Monza, perdi col Maccabi Haifa, sei quasi fuori dalla Champions, a ottobre, a prima di età ottobre, ai gironi, perdendo in Israele con una squadra che non vinceva a vent'anni, perdendo con una squadra che non aveva mai vinto in Serie A, lasciando punti indietro con la Sampdoria, a Genova, con la Salernitana in casa, nonostante quello che è accaduto, a Firenze, in casa con la Roma, abbiamo perso, sei, sette partite solo quest'anno, un disastro, veramente un disastro, per quanto io non sia d'accordo con il ritiro, se la società ti impone un ritiro, lo vai a fare, in una situazione di questo tipo, io non sono d'accordo, io credo che questo ritiro, bene o male non serve a niente, se non a provare a dare una scossa nervosa, che poi potrebbe cambiare come no, l'andamento della partita col Toro, non è questo il punto, ma se in un momento del genere, in cui comunque i giocatori, tutte queste palle, probabilmente non le stanno mettendo, perché io mi rifiuto di pensare, che i calciatori possano dare solo questo, e attenzione, ci sono delle grandi colpi di Massimiliano Allegri, se i giocatori non rendono, in quella maniera, in cui dovrebbero rendere, giocatori con questo status, ma a volte, purtroppo nella mia mente è passato, il brutto pensiero, che potessero essere, delle prestazioni anche, fatte apposta, di un certo tipo, per cercare di allontanare, una figura come Massimiliano Allegri, che sta diventando scomoda, e non accetterei di buon grado, questa cosa, certo forse, è meglio pensare a questa cosa qui, piuttosto che, ehi sono tutti scarsi, io non credo che siano tutti scarsi, poi magari sbaglio io, come non voglio nemmeno, essere qui a dirvi, che stanno remando contro, all'allenatore, alla società, non lo so, non ho idea, però anche questo, sarebbe anche un grande, decampanello d'allarme, perché, ne parlavo ieri, Juventus con Monblano, parlavano della figura di Nedved, che dovrebbe essere, quell'incastro, tra la squadra, quindi il rapporto della squadra, e la dirigenza, e quindi, se Nedved magari, va a fare un report, e dice, la squadra mi ha comunicato, che, in questo momento, non sente più la figura, di Massimiliano Allegri, come autoritaria, non sente più la fiducia, nell'operato dell'allenatore, e preferirebbe un cambio in panchina, e io, Pavel Nedved, dice Presidente di Juventus, sono d'accordo, con la visione della squadra, e la risposta dall'alto è, no, andiamo avanti con Max, perché c'è fiducia in Max, allora, stai mancando di rispetto, alla figura di Nedved, stai mancando di rispetto, al compito di Nedved, stai mancando di rispetto, alla squadra, forse stai mancando di rispetto, anche al tifoso, che rimane sempre, quell'output, poi, l'unica cosa, in grado di darti, no, una dimensione, di quello che sta funzionando, e che non sta funzionando, e allora, forse bisogna fare, due passi indietro, forse tre, uno, l'atto allenatore, perché oggi, l'allenatore rimane Massimiliano Allegri, è volente o no lenti, possiamo girare intorno, finché vogliamo, ma, Allegri è un testore, Allegri è una testa dura, Allegri sta cercando di dimostrare, che alla fine ha ragione lui, possiamo decidere di ammetterlo, possiamo decidere di non ammetterlo, non è un problema, ma, tutto sta andando in quella direzione lì, e cioè dimostrare, che alla fine, comunque, ha ragione lui, ma non lo sta dimostrando, sta dimostrando tutto il contrario, rispetto a questa cosa, sta dimostrando, una via fallimentare, con la volontà, o forse l'incapacità, ma io, non me la sento, di dire questa cosa, perché è una parola forte, incapace, e non sono nessuno, per poterla, attribuire a Massimiliano Allegri, e quindi, mi limito a dire, la non volontà, di fare un passo indietro, rispetto alle convinzioni, un passo avanti, verso quello che, oggi il calcio ti sta dimostrando, è una via diversa, ma anche, soprattutto, non anche, soprattutto, il rapporto in relazione, alla squadra che possiedi, che ha determinate caratteristiche, che ti ha dimostrato, mille volte, come dovrebbe, andare in campo, cosa dovrebbe fare, all'interno del campo, pure, la testa dura, di Massimiliano Allegri, la testa dura, di Andrea Agnelli, nel cercare, di non fare un passo indietro, neanche lui, la testa dura, dei calciatori, che anche di fronte, a questa situazione, di vergogna, perché se il presidente, della Juventus, usa la parola vergogna, provo vergogna, se il capitano della Juve, dice, sono in difficoltà, non so cosa pensare, non so come uscirne, sono preoccupato, sono situazioni forti, e se il gruppo squadra, reagisce dicendo, no, io ritiro, non ci voglio andare, o no, l'allenatore, io non lo seguo, testone la squadra, testone l'allenatore, testone il presidente, perché nei momenti di difficoltà, bisogna, ricompattarsi, non una guerra, di trincena, non una guerra, di posizione, in cui si mantengano, appunto, le posizioni, le opinioni, no, no, perché poi diventa, un gioco al massacro, e sapete chi ci va a perdere, la Juventus, e nessun altro, e quindi i tifosi, della Juventus, e non ce lo meritiamo, avremo tanti difetti, anzi, abbiamo tanti difetti, ma la guerra al massacro, per proteggere, un'ideologia, un'idea, una scommessa, magari anche palesemente fallita, poi non ce lo meritiamo, non ci meritiamo, di vivere sulla nostra pelle, questa cosa. che è un'idea, che è un'idea, Grazie.